Un no fermo a qualsiasi forma di emissione di inquinanti sul territorio. Con questo obiettivo è nato a Campobasso il comitato Basta Emissioni, costituito da cittadini e associazioni dopo un'assemblea l'8 aprile. Noi abbiamo formato questo comitato per contrastare l'ingegneritore, il fattispecie, il forno crematorio all'interno del cimitero e il biomassa a mascione. Noi non vogliamo questo perché noi siamo seriamente preoccupati per la salute dei cittadini, specie di noi che abitiamo nella zona, anche perché questa è un'area densamente popolata. Inoltre chiediamo anche la solidarietà di tutti i cittadini di Campobasso. Tutela dell'ambiente e della salute, la priorità nell'immediato si vuole contrastare dunque anche la costruzione dell'impianto inceneritore per cremare i defunti al cimitero a San Giovanni dei Gelsi, a Campobasso luogo scelto dal comitato per presentarsi alla stampa. Non siamo contrari al forno crematorio assolutamente, anzi forse io mi farò cremare quasi sicuramente. Siamo preoccupati perché questo è un centro abitato, tenendo conto di una cosa, che questo cimitero è saturo e tenendo conto che si può fare soltanto nei cimiteri cittadini il forno, quindi o Santo Stefano o qui a San Giovanni, noi ci chiediamo, uno perché questa fretta? Preoccupati per questo milione e 800 mila euro che devono essere investiti, quindi come si fa? Una persona che investe deve guadagnare, quindi su 50-100 corpi da cremare. Siamo preoccupati? Sì, siamo preoccupati perché l'inquinamento fa paura di per sé. Averlo in un centro abitato dove ci sono asili, scuole, qui siamo 15.000-18.000 abitanti in questo quartiere tra San Giovanni, quello dell'Orso, Polese. Il comitato ha chiesto l'accesso agli atti. Il 22 aprile alle 18.30 ci sarà un'assemblea pubblica proprio a San Giovanni dei Gelsi, alla quale sono stati invitati a partecipare il sindaco Battista e l'assessore ai lavori pubblici Pietro Maio. Siamo in una regione talmente ammalata di fumi, di emissioni, eccetera, eccetera, che noi non vogliamo più emissioni. Questa è una regione che ha altre vocazioni. Abbiamo una classe politica, purtroppo, che non capisce che questo è un territorio da sfruttare diversamente. Cioè chi è che va a fare un forno che gli costa l'ira di Dio tra il privato e il pubblico sapendo che poi verranno cremate 5, 6, 10 persone l'anno se tutto va bene? Voglio dire, va a perdere tanti soldi. Ci sono interessi. Si sa che dentro questi forni si parte dai defundi, questo, ma poi c'è quello di Contrada Macione con l'altro centenario. Si parte con il cippato, si parte con i defundi. E magari, ma tutto sto cippato e tutti questi defundi non ci stanno.